Oggi 16 agosto 2024, tempio di Abu Simbel, Abu Simbel e Nefertari. Abu Simbel e Nefertari. Nefertari e Abu Simbel. Adesso guarda qua, dove siamo? Siamo ad Abu Simbel e andiamo a visitare il piccolo tempio dedicato a Nefertari, che era la regina di Ramses II ma anche Dea. Ecco qua, questo è il grande tempio e questo è il tempio di Nefertari. Qualcosa di stupendo e poi ovviamente se volete ci sono, anche io ci sono. Salute, buon 16 agosto 2024 dall'Egitto, da Abu Simbel. Dopo, diciamo, una giornata cominciata non benissimo ma si sta rivelando invece. Bellissimo. Ecco qui Melissa che vi darà appunti. Il grande tempio. È bellissimo. Grazie. Grazie Grazie a tutti. Grazie.